Sto seguendo il Corvo Nero, è sul lato est della Ocean e sta girando a nord sulla Linden. Mi aggancio alla telecamera a terra. Lasciamo la simulazione, pronti alla diretta in cinque secondi. Versaio inquadrato. Si sta spostando sul lato est della strada, Sam. Lo vedi? Lo vedo. Contatto visivo, Kenzie. Ehi, benvenuta nel club, Messi. Il movimento sta attraversando l'incrocio. Rallenta, Kenzie. Rimani dietro di lui, per favore. Colpi d'armada fuoco! Corvo Nero, sottotiro! A tutte le unità, agenti sottotiro, entrate in azione. Dammi un'altra angolazione. Ci sto lavorando, Messi. Chelsea, spostati! Prendi Chandler, va, presto! Posizione GPS del bersaglio! L'apparecchio GPS nella valigetta. Sam, voglio contatto visivo con Chandler. Negativo, Messi. Corvo Nero è sparito. Maledizione.